che come il cinema no legge a voce arda quella di nonno che l'attrice mi pare di come suo nonno marino girasse sempre con in tasca il lunario di barbariera di polino per essere in uno di questi giorni qui passeggiando per le proprietà di Farroni si tolge il cappello e commentò Sor Farroni oggi quasi si suda sudi perché ti pesi il portafoglio rispose Farroni poco dopo Farroni scomparve per morte naturale e sembra che il nonno marino abbia commentato si vede che gli pesava il portafoglio mi pare di bevelo e mi dice sai che marito che mi pesava il portafoglio apposta per canzonarmi no? e io invece dopo un po' morì lui dice vedi a esso che pesava il portafoglio morto a me non mi pesava quindi allora c'erano il regno erano signori se via venivano mica erano amici sa per carità però una presa in giro così no? no? no 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 no